Un progetto importante di valorizzazione del nostro territorio perché da scoprire c'è tanto e da valorizzare c'è tanto. Assolutamente sì, oggi finalmente colmiamo un gap che negli anni si era accumulato, la nostra provincia non aveva un'identità in ambito di marketing turistico, oggi finalmente riusciamo a presentare questo progetto, un progetto che parte da lontano, che è frutto del lavoro di professionisti del nostro territorio e che ci consente di far conoscere quelle che sono le meravigliose bellezze della nostra provincia, dalla montagna fino alla costa, passando per i luoghi di culto e i luoghi culturali della provincia di Teramo che annualmente fanno sì che molti turisti vengano a visitare questo territorio. Una proposta che sarà al passo con i tempi, che prevederà l'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale per poter dare delle risposte immediate alle domande dei turisti, una proposta, un progetto, una piattaforma che sarà presente sia come sito internet che attraverso i canali social, sarà quotidianamente aggiornata, sarà una piattaforma a 360 gradi, 365 giorni l'anno, proprio a voler testimoniare quella che è la peculiarità e il punto di forza del nostro territorio, ossia le bellezze visitabili in qualsiasi momento dell'anno perché in qualsiasi giorno dell'anno si viene in questa provincia sia qualcosa di nuovo da poter scoprire. Quindi la provincia di Teramo si mette a disposizione dei turisti per far sì che in qualche modo attraverso dei percorsi guidati, delle proposte che verranno fornite, sarà possibile conoscere questo territorio, visitare questo territorio durante tutto l'anno. È una provincia che offre la possibilità di visitare appunto sia la montagna che il mare e non è poco. Assolutamente, è il nostro punto di forza, è stata in qualche modo la narrazione, la vulgata che negli anni si è sviluppata ma che poi non ha mai trovato reale concretezza, era più un qualcosa che veniva raccontato fuori dai canali di comunicazione e che non riusciva ad andare fuori dai nostri confini. Oggi con questa campagna proviamo ad andare a colmare esattamente quel gap, siamo certi che riusciremo a centrare la sfida, abbiamo presentato il nuovo logo del marketing turistico della provincia di Teramo che racchiude in qualche modo in maniera iconica questi tratti distintivi e che in qualche modo dovrà essere il brand che attraverso il coinvolgimento dei nostri concittadini riusciremo a far conoscere su un territorio evidentemente più ampio rispetto a quelli che sono i confini della nostra provincia e della nostra regione. Teramo ha tanto da dare, ha tanto da dire in ambito turistico, è venuto il momento di cogliere questa sfida, per questo coinvolgeremo tutti gli operatori turistici e culturali del nostro territorio, coinvolgeremo tutte le istituzioni del territorio. Oggi come provincia abbiamo sentito il dovere di fare il primo passo e di presentare questo progetto.